Buongiorno a tutti e ben ritrovati a quest'ultimo appuntamento con Ufinance, quest'ultimo webinar organizzato da Intesa San Paolo, dalla divisione IMI Corporate Investment Banking e colgo l'occasione per salutare Pier Paolo Scandurra. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Ovviamente come per questo webinar sa più di carattere operativo, l'oggetto sarà sempre l'investment certificate, mentre nei primi due webinar abbiamo analizzato più l'aspetto teorico e quindi più a livello generale come funzionano le principali tipologie di certificati di investimento. Con il webinar oggi vogliamo entrare più nel concreto dell'analisi di mercato e di come poter utilizzare questi strumenti per cogliere le opportunità presenti sul mercato e per padroneggiare e andare a cogliere le opportunità di investimento nei mercati dal breve ma anche medio periodo, perché come abbiamo visto anche altre volte le soluzioni di investimento possono essere anche nel breve, quindi magari con l'aiuto poi di Pier Paolo che c'è sempre di supporto andremo a cogliere alcune soluzioni interessanti, magari con scadenza 2-3 mesi, quindi magari luglio 2021, per poi vedere soluzioni di investimento anche a più lungo periodo e quindi andiamo verso il 3-4 anni come periodo di investimento. Ma per poter analizzare meglio le opportunità da cogliere lascio la parola per Paolo Scandurra per una view sul mercato in quest'ultimo periodo. Grazie Alessandro. Io prima di iniziare vorrei ricordare naturalmente, ma credo che chi sta partecipando a questo gran finale ormai sappia benissimo come funziona, che è possibile comunque interagire con noi, c'è la possibilità di fare domande, anzi sono benvenute perché ci danno modo anche di trascorrere al meglio quest'ora che ci porterà alle 13. E quindi se ci sono curiosità, se avete domande sul funzionamento dei certificati che stiamo vedendo o anche dei codici Aisin, in questo caso sui prodotti, approfittate e naturalmente sarà il nostro piacere rispondere. Quindi cercherò di tenere sotto controllo le domande, se volete siamo qui a vostra disposizione. Dicevi Alessandro, contesto di mercato? Devo dire anche oggi giornata per ora abbastanza noiosa, capisco che chiaramente c'è sempre una doppia faccia quando si commenta il mercato, per chi ha già titoli in portafoglio, giornate come questa tutto sommato vanno bene anche e soprattutto quando si opera in certificati perché la volatilità è più ridotta, le oscillazioni di prezzo sono più contenute e quindi i certificati tendono ad apprezzarsi. Va un po' meno bene per chi invece deve fare acquisti e quindi deve investire. Ci sono molti certificati che nel corso delle ultime settimane sono andate in autocall, cioè hanno rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza naturale e quindi questi soldi vanno reinvestiti. Quindi oggi c'è qualche difficoltà in più perché con una volatilità in calo i prezzi tendono a salire, le occasioni effettivamente non sono poi così tante. Da un punto di vista di commento siamo naturalmente in diretta alle 12.06, vedete le performance per quello che riguarda l'Europa sono veramente frazionali. Ieri abbiamo avuto 110 punti di escursione tra minimo e massimo sul Futsimib, oggi siamo a 150 punti ma in realtà siamo fermi già da un bel po', quindi poco, poco movimento, anche i titoli si muovono decisamente poco. Continua con calma ma comunque graduale il buon andamento del mercato americano che sembra essersi scrollato per il momento di dosso, le preoccupazioni legate all'inflazione, i tassi di interesse e anche i tecnologici si stanno muovendo un po' più al rialzo con qualche storia, un po' più degli altri, ma comunque insomma tendenza anche qui, vediamo il future, in questo momento più 0,26% per il Nasdaq. VIX, quindi indice di volatilità del mercato americano, in particolare delle opzioni, che è tornato ancora una volta al di sotto di quota 20, ha avuto un momento in cui ha rialzato la testa la scorsa settimana, salendo, come vediamo, fino al 22-24%, poi adesso siamo tornati al di sotto di area 20. Non è che sia proprio significativa l'area 20, ma che è comunque un po' una sorta di spartiacque tra un mercato che tende a muoversi, a ballare un po' di più e un mercato proprio tranquillo, dove le oscillazioni, come abbiamo detto, sono effettivamente molto basse. Non c'è molto di diverso da commentare su quello che è l'indice di volatilità del mercato europeo, anche in questo caso B-Stocks 18,70%, leggermente più alto, insomma siamo veramente lì, in linea blu lo possiamo vedere appunto dal grafico che stiamo condividendo. Quindi mercato molto tranquillo, Alessandro, non ci sono storie particolari, anche il petrolio oggi meno 0,22, insomma in linea massima ci sono, è un po' come la quiete dopo la tempesta, anche se poi di tempesta non si può parlare, però sappiamo nelle scorse settimane ci sono state le dinamiche legate appunto ai tassi di interesse, al tema dell'inflazione, quindi un po' di attese anche per le politiche monetarie delle banche centrali, in particolare della Federal Reserve. La stagione degli utili, con molti titoli che hanno superato di gran lunga le attese, ma hanno adesso un compito difficile per mantenere effettivamente alta la sticella che è stata raccontata, che è stata descritta nelle ultime trimestrali, quindi c'è un po' di preoccupazione per quello che potrà essere la prossima trimestrale di molte società, perché i numeri sono veramente importanti, anche in considerazione del fatto che comunque l'economia è in una fase di ripresa, e quindi già hanno scontato gran parte delle buone notizie. C'è ancora una forte tendenza da parte delle società, sia americane ma non solo, anche ad esempio in Italia ci sono molte banche che stanno attuando queste operazioni, di buyback, cioè riacquisto di azioni proprie, e questo consente alle società, alle aziende, di ritornare in possesso di azioni, toglierle dal mercato, e quindi migliorare il rapporto prezzo-utili. Questo è ormai uno stratagemma che va avanti da diverso tempo per far sì che i dati risultino sempre migliori delle attese, però in realtà è un po' una manovra artificiosa, perché chiaramente si riacquistano azioni proprie e si tolgono dal mercato, ma realmente non è che si migliora il bilancio, semplicemente si diluisce di meno il rapporto prezzo-utili. Quindi è un po' una dinamica che va avanti da un po' di tempo. Altro tema è chiaramente quello legato, almeno per il mercato italiano, al tema dei dividendi. Lunedì 24, quindi due giorni fa, è stata la giornata di stacco per i dividendi di Piazza Affari, uno stacco decisamente più avaro rispetto agli anni precedenti, poco meno dell'1% l'incidenza che c'è stata sull'intero indice. Il titolo più generoso è stato Generali, con un dividend yield di circa il 5%. Intesa, giusto per rimanere in casa, anche se naturalmente è così, è solo una notizia non di più, quest'anno è ancora ferma nel pagamento dei dividendi, per quello che sappiamo in merito alla BCE, quindi ai pagamenti dei dividendi delle istituzioni finanziarie. Anche le notizie, oggi, seguendo un po' le notizie in tempo reale, che poi pubblichiamo anche sul nostro canale Telegram, ma non ci sono notizie molto, molto rilevanti. Attendiamo, ecco, non ci riguarda da vicino, ma insomma il tema delle criptovalute, c'è stato un rimbalzo del Bitcoin che è tornato in area 40.000 dollari dopo aver toccato i 30.000 prima e i 32.000 successivamente e quindi un rialzo di alcuni titoli legati un po' al tema delle criptovalute. Questo è un po' il contesto, Alessandro, insomma oggi è giornata molto tranquilla, quindi possiamo trascorrere quest'ora assieme parlando di certificati sapendo che non verremo molto probabilmente distratti dai temi di mercato. Se ci saranno novità, naturalmente, le comunicheremo. Allora, Alessandro, questo è un po' il contesto. A questo punto cerchiamo di calare il contesto di mercato, che come abbiamo detto è caratterizzato anche da bassa volatilità e tradurlo nei certificati. Quindi abbiamo tre tipologie di prodotto che possiamo condividere. Partirei da una novità che è quella degli Express Certificates, quindi forse un ritorno alle origini, perché vi voglio ricordare che questa struttura che adesso Alessandro ci racconterà è stata forse, anzi senza forse, è stata la prima che è stata quotata sul mercato nel lontano 2006-2007 per quello che riguarda i certificati con rilevazioni intermedie prima della scadenza naturale. Quindi parleremo degli Express, faremo un inevitabile passaggio sui cash collect, quindi i certificati che pagano premi periodici con una struttura un po' diversa dagli Express. Poi, se ci sarà tempo, se ci sarà curiosità, naturalmente potremo vedere anche qualche bonus cap di breve scadenza. Questo è un po' l'agenda, il menu di questo nostro appuntamento, di questa seconda giornata del gran finale di YouFinance. Quindi, non vedo domande, non ci sono interventi, quindi possiamo partire. Vi ricordo, naturalmente, insomma, intervenite, serve anche a noi, quindi non è solamente... Certo, se volete solo salutare, è un piacere, ma se avete dubbi, naturalmente esponeteli. Alessandro, vengo da te, se vuoi condividere il tuo monitor a questo punto, e possiamo partire. Grazie, grazie mille per Paolo, e quindi sottolineo anch'io l'importanza delle vostre domande, perché ovviamente i vostri dubbi e le vostre perplessità, le vostre richieste ci aiutano anche a capire dove dobbiamo, abbiamo qualche lacuna, e quindi dove dobbiamo migliorare, dove dobbiamo essere più trasparenzi e migliorare le informazioni che diamo, in modo che possiate capire al 100% come utilizzare questi strumenti, piuttosto che dove riperire le informazioni. Colgo l'occasione, come già anticipato per Paolo, per lanciare l'ultima novità delle missioni di Intesa San Paolo, cioè sono 32 nuovi Express Certificate su azioni italiane e internazionali, che sono stati quotati a partire da ieri. Giusto per un excursor, giusto per magari chi si è collegato per la prima volta in questo webinar attuale e non è presenziato nei webinar scorsi, io mi occupo all'interno del team Investment and Listed Products Sales della divisione IMI Corporate Investment Banking di Intesa San Paolo, mi occupo più della parte di direct listing, cioè della parte della banca che si occupa della creazione, dell'emissione e della quotazione di certificati di investimento, oltre che obbligazioni e cover warrant, che vengono emessi e quotati direttamente sul mercato, in particolare sul segmento SEDEX di Borsa Italiana o in alcuni casi anche su EuroTLX, che sono due mercati di riferimento in Italia per i certificati di investimento. Direct listing significa che, appunto come dicevo prima, questi prodotti vengono emessi e quotati direttamente sul mercato, quindi non esiste un periodo di collocamento attraverso o comunque di distribuzione presso gli intermediari finanziari e quindi l'unico modo per poterli acquistare è direttamente sul mercato attraverso il proprio conto titoli, il proprio broker o il proprio conto online a cui è possibile appunto comprarli ogni giorno di mercato aperto al prezzo di mercato. Quindi questa nuova emissione, come dicevo prima, è partita ieri sul mercato, quindi il primo giorno utile per poterli acquistare è stato appunto il 25 maggio. Come funzionano questi Express Certificate? Allora, dal nostro sito, intesasanpaolo.prodottequotazioni.com, ogni volta che noi lanciamo una nuova emissione è possibile visualizzarla visualizzarla in due sezioni, uno attraverso i banner nella home page dove mettiamo in evidenza ovviamente le ultime emissioni o se no c'è una sezione apposita in cui proprio diamo evidenza di tutte le ultime quotazioni di certificati che abbiamo emesso. Per quanto riguarda l'ultima emissione, cliccando sul banner, si apre quella che noi chiamiamo l'ending page che dà una descrizione sintetica di come funzionano questi strumenti e in particolare adesso ci entriamo più nello schema proprio del funzionamento di questa emissione disponibile da ieri. Per questa emissione cosa è successo? Che il 20 maggio 2021 sono stati rilevati i fixing, quindi il valore iniziale, lo strike iniziale del sottostante e conseguentemente il livello barriera. Il livello barriera che è il livello che viene monitorato alla scadenza per cui se il sottostante alla scadenza e la data di valutazione finale si trova al di sotto del livello barriera il certificato rimborsa un importo commisurato alla performa negativa del sottostante invece nel caso in cui il sottostante dovesse essere al di sopra di questo livello barriera allora viene rimborsato il prezzo di emissione di certificato che ricordo che per quasi tutti i certificati emessi con queste modalità il prezzo di emissione quindi il valore nominale si attesta intorno ai 100 euro quindi anche il prezzo di quotazione comunque il taglio minimo diciamo 100 euro quindi questo garantisce una determinata accessibilità per l'investitore con anche investimenti di modesto valore a prendere esposizione sui sottostanti magari che non sono così facilmente reperibili sul mercato con importi modesti questo in generale vale per tutti i certificati dopodiché una volta che abbiamo determinati questi livelli questi certificati come funzionano a maggio 2022 quindi fra un anno viene corrisposto un premio incondizionato cioè il premio che viene corrisposto a un anno fra un anno non dipende dall'andamento dell'attività sottostante quindi anche se sottostante dovesse perdere un importo elevato quindi dovesse scendere anche al di sotto di quel famoso livello barriera che viene verificato la scadenza a maggio 2022 il premio viene percepito quello che noi chiamiamo importo plus poi cosa succede che nel 2023 e nel 2024 quindi esattamente fra due tre anni viene rilevato il valore del sottostante a questo punto si aprono tre scenari distinti se il valore sottostante dovesse essere al di sotto del livello barriera il certificato non paga nessun premio e non scade quindi si va alla data di valutazione successiva nel caso in cui invece il valore sottostante dovesse essere superiore al livello barriera ma inferiore allo strac iniziale quindi significa che il sottostante ha registrato una performance negativa ma non abbastanza elevata da essere al di sotto dal livello barriera viene pagato un premio che poi vediamo che dipende dal sottostante dal certificato poi andremo ad analizzarli nel dettaglio comunque viene pagato il premio e si passa alla data di valutazione successiva nel caso in cui invece il sottostante oltre ad essere superiore al livello barriera è anche superiore allo strac iniziale ovvero nel caso in cui il sottostante ha registrato una performance nulla o positiva allora in quel caso cosa succede che il certificato scade anticipatamente rimborsando sia il prezzo di emissione sia il relativo premio e quindi si chiude la vita del certificato se questi eventi non dovessero verificarsi sia maggio 2023 e 2024 ovvero se in entrambe le date di valutazione il certificato ha registrato una performance negativa si va alla scadenza cioè a maggio 2025 in particolare il 16 maggio 2025 in questo caso si va a rilevare il valore del sottostante e come dicevamo prima è importante confrontarlo con il livello barriera se il sottostante è maggiore o uguale al livello barriera viene rimborsato il prezzo di emissione più l'ultimo premio altrimenti si percepisce una perdita commisurata a quella registrata dall'attività finanziaria sottostante quindi per riepilogare questo certificato cosa permette? Allora un investimento di durata 4 anni diciamo nella possiamo dire la peggiore dell'ipotesi nel senso che se non scade anticipatamente dura 4 anni nel caso invece di scadenza anticipata potrebbe durare anche 2 2 o 3 anni e cosa quindi il primo anno non può rimborsare al primo anno esatto il primo anno non può rimborsare anticipatamente e viene comunque corrisposto il premio un primo premio che è incondizionato in quel caso quindi primo anno maggio 2022 non dobbiamo neanche guardare il valore dell'attività sottostante al fine del pagamento e del funzionamento del certificato perché il premio viene comunque pagato ovviamente il valore del sottostante ha un impatto sul prezzo del certificato però non sulla possibilità di ricevere il premio nel senso Alessandro per chiarire un attimo meglio questo aspetto cioè se ad esempio oggi il certificato è partito e il sottostante è sul valore che aveva il 20 maggio insomma mi sembra aver capito la rilevazione dello strike più o meno in quel giorno quindi fra un anno il titolo sottostante sta guadagnando il 30% rispetto ad oggi il premio viene pagato in maniera incondizionata non può rimborsare ma naturalmente le probabilità che possa rimborsare poi all'anno successivo sono più alte pertanto il prezzo del certificato queste probabilità le sconterà e quindi salirà di prezzo magari non dell'intero importo pagabile al secondo anno però se uno volesse poi alla fine dopo un anno se lo potrebbe pure vendere cioè quindi non scade da solo ma è liquidabile cioè io posso eventualmente venderlo se mi accontento di quello che trovo quindi il sottostante comunque il suo ruolo ce l'ha pertanto è importante insomma verificare la possibilità di non scade da solo ma lo posso vendere e questo è un po' il segreto degli express poi lo vedremo meglio dopo quando faremo qualche esempio e una delle cose che racconto sempre negli express è la possibilità di poter vendere anche prima della data di rilevazione se il sottostante si sta muovendo insomma in direzione positiva perfetto grazie per Paolo quindi questi sono gli elementi nel funzionamento degli express certificate in generale e vediamo adesso nel dettaglio questo gli express rientrano un po' come diceva prima per Paolo nelle principali tipologie che abbiamo affrontato nel corso del webinar quindi certificati di capitale condizionatamente protetto caratterizzati da un livello barriera scadenza e in particolare la peculiarità degli express è appunto questa possibilità di scadere anticipatamente al verificarsi di determinate condizioni generalmente questa condizione è appunto il fatto che il sottostante nelle date di valutazione intermedie si trovi al di sopra del livello di collability dove per il livello di collability almeno per i nostri certificati e sicuramente per questa serie è fissata allo strike iniziale del certificato cioè scadono in parole povere nel caso in cui il sottostante abbia registrato una performance positiva rispetto al suo valore di riferimento iniziale che appunto è stato rilevato il 20 maggio Alessandro vi faccio solo una domanda uguale e positiva o solo positiva uguale e positiva quindi anche nel caso in cui in una data di valutazione il sottostante dovesse avere un valore identico a quello che abbiamo rilevato il 20 maggio scade anticipatamente pagando il premio ok sembra una sfumatura dici ma quanto quando capiterà no non è capitato in realtà certo su una massa di tantissimi certificati magari le probabilità sono bassissime però quando capita è bene saperlo quindi può rimanere anche fermo fondamentalmente esattamente allo stesso valore c'è il pagamento del premio e il rimborso corretto corretto giusto scusa Alessandro puoi togliere puoi nascondere la condivisione sotto c'è AID ecco sì perché ci copre ci copriva un po' i dati ok ok perfetto grazie della segnalazione proseguo un attimo solo illustrando le caratteristiche dell'ultima missione quindi giusto velocemente andiamo a vedere la carrellata di sottostanti su cui è possibile investire per questa missione poi dopo andremo a vedere anche per Paolo come trovare altre tipologie di prodotti emessi in altri momenti perché come dicevo prima questa è la novità però tutti questi prodotti vengono emessi e quotati sul mercato quindi finché restano in quotazione e praticamente restano in quotazione fino alla scadenza è possibile quindi è possibile acquistarli quindi il momento è migliore per l'acquisto come magari forse leggo già anche qualche domanda che riguarda quando entrare magari nell'investimento che poi andremo ad analizzare meglio con Pierpaolo ecco questi certificati essendo quotati e essendo acquistabili solamente sul mercato possono essere acquistati in qualsiasi momento dal primo giorno di quotazione all'ultimo giorno di quotazione che è in prossimità della scadenza sono quattro giorni lavorativi prima della scadenza poi dipende un attimo dal mercato comunque da come effettuate le emissioni ma diciamo che possono essere acquistati quasi fino alla scadenza salvo orare eccezionalità e quindi magari quello che non è appetibile sul mercato in un primo momento o in un determinato contesto di mercato potrebbe risultare poi un'opportunità in fra magari un anno due anni dall'emissione questo poi è da valutare andando a monitorare esattamente i certificati disponibili sul mercato per quanto riguarda invece quest'ultima emissione i sottostanti riflettono un po' la gamma dei sottostanti che abbiamo emesso in precedenza quindi parliamo di mercato libere Ford General Motors ecco giusto per ricordare a chi ci ascolta nel caso di sottostanti denominati in dollari statunitensi il certificato è comunque denominato in euro quindi grazie all'opzione che si chiama quanto l'investitore non è esposto al rischio legato all'andamento del tasso di cambio quindi il certificato permette anche consente anche di investire in un sottostante con una valuta straniera senza esporre l'investitore al rischio legato all'andamento del cambio poi per proseguire i sottostanti abbiamo IDF Illumina Nokia Renault Volkswagen Società Generale Leonardo Unicredit BBVA Stellantis Repsol ecco poi Intel che è stato uno dei sottostanti inseriti in questa serie tra l'altro prendendo spunto magari anche da come input una richiesta di di un investitore che era presente che era presente nello scorso webinar che aveva appunto chiesto qualche sottostante sui semiconduttori quindi in questo caso abbiamo reinserito Intel come sottostante su questa tipologia di payoff poi abbiamo ING Daimler BMP ecco poi vedete che anche sullo stesso sottostante è possibile trovare diverse barriere ovviamente con una barriera più vicino allo strike e quindi magari in questo caso parliamo dell'80% il premio è più elevato quindi il rendimento potenziale è più elevato quindi qua parliamo ad esempio su BMP messo che è l'ultimo su commissione soffermato di un premio annuale dell'8,35 euro invece se vogliamo essere più conservativi quindi magari avere una barriera a scadenza del 70% il premio ovviamente scende a fronte della logica di mercato rischio-rendimento cioè un prodotto più rischioso rende di più un prodotto meno rischioso rende di meno poi l'importante per noi è offrire sul mercato soluzioni di investimento che poi si adattano alle diverse esigenze di investimento degli investitori e delle loro view di mercato poi abbiamo il solito telefonica Eni Enel e assicurazioni generali per andare verso sottostanti un po' meno volatili rispetto ai primi citati i premi e le barriere allora come vedete c'è un'ampia gamma anche di barriere e di rendimenti potenziali le barriere se stiamo intorno a 65 70 75% fino ad arrivare all'80% di quello che ho detto prima di BNP e anche su Eni e assicurazioni generali la barriera è apposta all'80% perché appunto come dicevamo prima sono sottostanti con una volatilità magari più contenuta rispetto rispetto agli altri e quindi per far sì che ci sia un rendimento comunque apprezzabile si gioca appunto su un livello barriera un po' più aggressivo nonostante questo i premi si parla anche di premi che vanno magari da un 608% annuale di premio su un sottostante come Eni con barriera 70% un premio un po' più conservativo anche lì per la bassa volatilità di Intel al 5,81% su base annuale per arrivare a premi che esporano anche l'8,29% su Leonardo con barriera 80% e superiamo il 10 solo per sottostanti molto volatili come Ford Motor che offre un premio annuale quindi un rendimento potenziale del 10,11% con una barriera fissata al 75% e questo ci ha consentito anche di fare una barriera più conservativa al 65% con un premio dell'8,58% mentre se vogliamo forzare proprio la barriera quella più conservativa abbiamo su un altro sottostante molto volatile quindi General Motors e in questo caso il premio annuale su base annuale è del 7,60 euro annui che quindi ricordo che vengono pagati nel 2022 incondizionatamente questi premi mentre invece dal 2023 vengono pagati solo nel caso in cui il sottostante dovesse essere maggiore o uguale al livello barriera ecco prendiamo un esempio proprio quello un pochino più generoso potremmo prendere proprio Ford per darci un'idea insomma del funzionamento quindi aprendo una scheda così capiamo anche un po' forse la scheda posta emissione ancora non c'è esatto sono una novità di mercato quindi non è ancora disponibile la scheda posta emissione che è il documento di natura commerciale che illustra in modo sintetico sia il funzionamento del certificato ma anche una funzione di monitoraggio del certificato stesso per capire durante la storia se e quando ha pagato eventuali premi in generale comunque una volta che avete individuato il prodotto che maggiormente vi interessa è una pagina di dettaglio prodotto con tutti gli elementi chiave oltre che tutta la documentazione legale per quanto riguarda il certificato express con sottostante Ford possiamo già vedere a livello indicativo qual è il prezzo di quotazione e oggi questo è un prezzo di circa 20 minuti quindi siamo ancora allineati con il prezzo di emissione leggermente sotto la pari e in questo caso vediamo che il prezzo di quotazione di ieri era sotto la pari era il prezzo di chiusura di questo certificato nel primo giorno di quotazione era stato 98,7 oggi è già salito le caratteristiche principali potete trovarle nella prima tabellina in cui viene indicato sia il valore di riferimento iniziale quindi lo strike iniziale il famoso valore di Ford sottostante al 20 maggio e che è 12,49 e il livello barriera viene detto che la barriera è 75% e quindi è a 9,3675 nonché trovate indicato anche la distanza dalla barriera quindi rispetto al prezzo di chiusura del sottostante quindi alla chiusura di ieri il sottostante aveva una distanza dalla barriera di 28,27% quindi significa che la barriera effettiva a cui si acquistava il certificato al prezzo di chiusura di ieri era un 72% l'incirca quindi un po' più conservativa rispetto alla barriera ti dirò di più Alessandro che ti ho fatto una domanda su Ford per un paio di motivi innanzitutto perché volevo far vedere come il titolo Ford rispetto allo strike iniziale di 12,49$ si è già salito di circa il 3% la chiusura di ieri è stata 12,81$ ma questo non si è portato dietro il prezzo del certificato che in realtà è ancora sul nominale o giù di lì quindi vuol dire che comunque in questo momento la performance positiva di Ford per quanto minima di circa un 3% non ha fatto salire il certificato al di sopra dei 100% questo dal momento che ancora non penso che si è comprato nessuno è una buona notizia perché magari si può comprare con un margine sulla barriera che è diventato più ampio ma in realtà ti dirò che Ford sta salendo anche nel pre-market lo guardavo proprio prima sta salendo dell'1,80% una pre-apertura attesa a 13,04$ quindi adesso non so se il prezzo lì non è un prezzo in tempo reale ma comunque più o meno lì quindi vuol dire che a fronte di una possibile salita ulteriore di Ford si incrementerebbe quindi questo fra un anno comunque indipendentemente dall'andamento di Ford ci paga 10,11€ quindi il premio di 10,11€ naturalmente ricordiamo questo premio ha tre caratteristiche che voglio riassumere brevemente la prima è incondizionata non si guarderà all'andamento di Ford non ci sarà possibilità di rimborsa anticipato quindi è come se fosse uno stacco cedola di un'obbligazione chiamiamola così il prezzo del certificato scenderà di pari importo quindi se fra un anno si dovesse ipoteticamente trovare a 100 sul mercato il giorno dello stacco andrà a 90€ 89,89 per la precisione terzo aspetto la fiscalità pur trattandosi di un premio incondizionato consente la compensazione delle minusvalenze queste sono le tre cose molto in maniera molto sintetica da riassumere dopodiché il certificato prosegue in quotazione arriva all'anno successivo se Ford si trova esattamente sui valori di oggi il certificato rimborsa 110,11 e quindi c'è un ulteriore premio del 10% anno se così non dovesse essere si va avanti di un anno ma il premio poi diventa 120,22 quindi si incrementa con l'effetto memoria e le cose non andranno bene se Ford si troverà solo alla scadenza al di sotto dei 9,36 e 75 per la precisione quindi ecco il motivo per cui il certificato di tipo express può essere interessante poi ora rispondiamo anche alla domanda di Mario è proprio perché non serve che Ford salga chissà quanto anzi il solo passare del tempo a parità di sottostante farà crescere questa struttura perché se ad esempio Ford si trova oggi a 13 dollari e il certificato è a 99,97 dove 10 sono già di premio quanto dura in tutto? 4 anni giusto? sì corretto quindi è come se fosse un 2,50 se rimborsa il capitale dalla scadenza il 2,50 quanto meno lo prendi annuo perché sono 10 punti in 4 anni quindi 2,5 quelli va bene non ce li toglie nessuno quindi 10 punti subito se Ford ad esempio si trova intorno ai 12,40 12,50 fra un anno e mezzo il certificato a quel punto inizierà a leggere la possibilità di rimborsa anticipato e quindi camminerà un po' di più verso i 110 fra due anni e mezzo se non avesse rimborsato prima andrà probabilmente intorno ai 118 perché? perché dovrà rimborsare a quel punto 120,22 questo è il buono dei certificati express quello che non piace magari è il fatto che se invece Ford non è mai sopra strike a quel punto non si incassano mai dei premi cosa che invece c'è nei cash collect di cui parliamo fra poco c'è solo una correzione per Paolo perché forse sono stato io abbastanza chiaro nella spiegazione iniziale nel senso che questo non ha effetto memoria però il livello premio a maggio 2023 2024 è sul livello barriera ah ok allora si è come se fosse un cash collect poi alla fine insomma però senza effetto memoria va bene allora cancellate tutto quello che ho detto probabilmente avevo capito male io ok e quindi ho fatto un'analisi che in realtà non è corretta scusami Alessandro mi riferivo tipicamente agli express puri sì no esatto ma ho detto lasciato continuare perché comunque gli express appunto prevedono anche questa possibilità e quindi abbiamo introdotto un altro elemento tipico degli express di come valutarli nel caso in cui appunto come dicevi tu il livello premio è sullo strike iniziale quindi in quel caso esiste un effetto memoria perché perché nel caso in cui non scada anticipatamente non viene pagato neppure il premio e quindi viene magari rimandato all'anno successivo di valutazione invece in quest'altro caso è possibile comunque ottenere il premio intermedio anche nel caso di performance negativa del sottostante quindi in quel caso già anche anche nel 2023 nel 2024 è possibile ottenere il premio di 10,11 euro senza la scadenza anticipata del certificato è un classico cash collect con con l'ability esatto quindi no 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 anzi mi chiedo scusa a tutti naturalmente a partire per primo chiedo scusa a te avevo interpretato dal nome e dalla struttura lo stacco cedola viene riflesso nel prezzo cioè allo stacco della cedola il prezzo del titolo diminuisce del valore della cedola sì Gian Domenico lo abbiamo detto prima ma probabilmente anche qui non sono stato chiaro e ti sei collegato dopo effettivamente uno degli aspetti è che chiaramente il prezzo scenderà dello stesso importo della cedola poi che che tipo di view sul mercato ha portato a scegliere questa tipologia di emissione questo puoi magari dirlo tu no allora noi cioè il nostro obiettivo è fare emissioni in modo da dare all'investitore la possibilità di scegliere la struttura o la strategia di investimento che meglio si adattano alle sue esigenze e alle sue view di mercato nel senso che quando noi facciamo emissione noi non abbiamo un ruolo di consulenti quindi non facciamo consulenza e andiamo a indicare qual è che sono i prodotti più adatti in un determinato contesto di mercato piuttosto che in un altro il nostro obiettivo è quello di offrire soluzioni di investimento e quindi è anche per questo che voi trovate per ogni emissione un numero elevato di strumenti su sottostanti diversi su combinazioni rischi rendimenti diversi se però vogliamo andare a analizzare al contrario questa emissione in questo momento a quale contesto di mercato si adatta ecco che allora in generale comunque i certificati di capitale condizionatamente protetto e quindi sia express che bonus cap che cash collect soprattutto con questa particolare struttura si adattano a contesti di mercato in cui il sottostante abbia una certa stabilità e quindi se si ha una view di mercato in cui il sottostante sia abbastanza stabile o di crescita del sottostante o di discesa del sottostante quindi diminuzione del valore del sottostante ma non oltre livello barriera quindi una perdita molto contenuta ecco che allora questi certificati offrono un'opportunità di investimento ovviamente se la view in senso positivo del qual è il pro il contro diciamo se uno su un determinato sottostante ha una view molto positiva nel senso di una performance elevata dell'attività finanziaria sottostante ecco che magari allora questo strumento non è ideale perché seppur offre un rendimento positivo però è sempre diciamo a un cap a un livello massimo di rendimento che è pari a 10 virgola 11 euro l'anno e si rinuncia inoltre alla percezione degli eventuali dividendi staccati dall'azione sottostante quindi il contro delle investimenti certificati nel caso di scenario positivo è appunto questa limitazione al rendimento massimo di contro però cosa succede che anche nel caso di performance nulla o negativa ma limitata del sottostante quindi limitata intendo non superiore alla barriera ecco che il certificato comunque offre comunque il rendimento del 10,11% su base annua al valore al prezzo di emissione quindi un rendimento positivo anzi potrebbe essere anche il rendimento massimo effettivo del certificato diciamo che la situazione ideale sia che il sottostante rimanga immobile in questo caso il certificato paga tutti anzi scade anche fra un anno si rimane proprio immobile invece fra due anni perdono quindi si incassa il primo 10,11€ per questo esempio di Ford e poi il secondo anno scaderebbe anticipatamente con altri 10,11€ però anche se è una performance negativa magari secondo anno si incassa un altro primo 10,11€ si va al terzo anche se la performance è negativa ma entro livello pariera si incassa un altro primo di 10,11€ fino ad arrivare alla scadenza poi un altro motivo che può spingere una soluzione di investimento verso questa tipologia di certificati in particolare per questa struttura è che magari si pensa che in questo caso il sottostante magari nel breve periodo possa oscillare molto quindi caratterizzato da alta volatilità e questo certificato diciamo che almeno fino al 2022 comunque sia il primo premio viene pagato incondizionatamente nell'andamento del sottostante ecco che allora magari se si ha una view un po' incerta di alta volatilità del sottostante nel breve periodo per poi magari si ha una view su quel sottostante di ritorno ad una stabilità e magari lo strac iniziale o una performance positiva fra due tre anni ecco che allora questo questo certificato potrebbe adattarsi a quella view di mercato però ecco il nostro obiettivo è offrire opportunità di investimento non dare direzionalità o comunque le missioni non sono un consiglio o una proposta nel senso la soluzione di investimento in un determinato che risponde a una precisa esigenza di investimento da parte di un investitore specifico guarda Alessandro c'è una domanda che era arrivata che può darci spunto per fare un altro commento vi è un momento migliore per l'acquisto esempio con i mercati in calo con forti discese sembra simile a quella di prima ma in realtà non lo è perché c'è un'altra lettura che si può dare e quindi ringrazio Mario che ha fatto questa domanda quando è che può essere interessante comprare i certificati in generale ecco quindi questa struttura piuttosto che l'express o un bonus proprio quando i mercati sono più volatili cioè c'è più nerdosismo e di conseguenza ci sono performance un po' più negative e quindi i mercati in discesa perché perché nel momento in cui sono in discesa non è tanto l'aspettativa del rimbalzo che può starci così come può tardare o addirittura non esserci mai su alcuni titoli ma è la componente della volatilità quando la volatilità è più alta tende poi a normalizzarsi di conseguenza comprando un certificato che in quel momento sta apprezzando con una volatilità alta del sottostante si riesce a guadagnare anche se poi il sottostante non risale ma semplicemente per il raffreddamento della volatilità quindi per essere sintetico e per rispondere c'è un momento migliore poi tutti gli altri non è che siano sbagliati però sicuramente quello giusto è quando i mercati sono in discesa che sembra un po' un paradosso perché tipicamente chi investe sul mercato azionario tende a farlo quando vede che c'è un sereno all'orizzonte e invece quando vede dei momenti di instabilità notizie che potrebbero far temere magari una discesa preferisce rimanere alla finestra non mi stancherò mai di dirlo chi mi conosce ormai lo sa che lo dico da molti anni e l'ultimo anno è stato emblematico quando sale la volatilità è il momento di prendere il coraggio tra le mani non cercare di afferrare il coltello mentre cade perché probabilmente il timing giusto di ingresso non lo indoveniremo ma comprare quando la volatilità è al 30 35 40% ci consente di guadagnare alla sola normalizzazione della volatilità indipendentemente poi se il sottostante risalirà o meno quindi ecco su questo Mario direi che c'è un momento migliore degli altri dopodiché gli altri non è che uno rimane fermo tutta la vita ad aspettare la volatilità salga e quindi qualcosa nel frattempo fa però quello è un momento giusto posso dire a riguardo di questo è vero Paolo che il mercato proprio per quanto meno la visibilità che ho a livello dei nostri prodotti ne ha perfettamente conferma su quanto è accaduto l'anno scorso la famosa emissione di febbraio 2020 forse una di quelle che ha venduto di più del canale direct listing ovviamente dell'anno scorso ha venduto ha scosso notevole successo sul mercato appunto nei mesi di marzo e aprile 2020 quindi contesti di mercato caratterizzati appunto dalla discesa del mercato e da un incremento molto elevato della volatilità va bene allora qua ci sono ancora un paio di domande però nel frattempo Alessandro potremmo andare a dare un'occhiata a Tato Iexpress ce li siamo raccontati in questa forma appunto da cash collect con premio pagato sulla barriera magari potremmo andare a vedere proprio quelli che invece appunto hai appena nominato i premium cash collect o eventualmente anche i cash collect non di tipo premium però rimaniamo nell'ambito dei certificati con premi periodici che vado ad anticipare ad esempio una prima differenza è nella frequenza del pagamento questi abbiamo visto sono cadenza annuale mentre ci sono anche quelli che la pagano più in maniera più ravvicinata rispondo solo a una domanda c'è un sito dove verificare velocemente la volatilità implicita dei sottostanti senza scomodare le opzioni relative l'unica risposta che posso darti è gratuitamente ti direi che sul sito di investing.com andando a cercare le opzioni sul relativo sottostante si può forse trovare una misura della volatilità implicita altri canali non esistono quindi o almeno non ne sono a conoscenza devo necessariamente citare essendo parte in causa il CEDLAB che è la piattaforma di analisi del mercato italiano dove invece è possibile trovare la volatilità implicita sempre aggiornata di tutti i sottostanti utilizzati dal mercato però non è un sito gratuito ok tornando all'esempio di payoff ci sono due esempi citando la penultima emissione di certificati fatti in Intesa San Paolo e quindi parliamo dei premium cash collect quindi la struttura è molto simile a quella degli express ma cos'è quella differenza sostanziale che non prevedono la possibilità di scadenza anticipata e tutti i premi intermedi sono incondizionati quindi per le emissioni di Intesa San Paolo la dicitura premium cash collect certificate intendono quei cash collect che prevedono il pagamento di premi intermedi che non sono legati all'andamento dell'attività finanziaria sottostante l'esempio è l'emissione che abbiamo avuto a fine aprile in cui come funzionavano avevano una scadenza di tre anni e pagano dei premi trimestrali quindi un premio ogni tre mesi a partire il primo premio quindi da luglio 2021 indipendentemente dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante alla scadenza invece quindi ad aprile 2024 si va a rilevare il valore del sottostante quindi l'unica data al fine del funzionamento del certificato se detenuto fino alla scadenza è importante per in cui si va a rilevare il valore del sottostante appunto quella di scadenza due giorni lavorativi prima della scadenza quindi il 25 aprile 2024 viene rilevato il valore del sottostante se è maggiore o uguale a livello barriera nel rimborsato prezzo di emissione più un ultimo premio altrimenti si subisce la stessa performance negativa del sottostante quindi funzionamento a scadenza uguale a quello degli express mentre invece durante la vita del prodotto ecco in questo caso abbiamo l'assenza di possibilità di scadenza anticipata premi che non sono legati all'andamento del sottostante quindi sono tutti incondizionati e una frequenza di premi in questo caso che è di tipo trimestrale questo per quanto riguarda i primi un po' ovviamente all'interno del sito è possibile trovare tantissimi altri primi certifiche con una frequenza premi che può essere mensile trimestrale semestrale annuale a seconda delle esigenze di investimento è possibile trovare poi diverse diverse combinazioni mentre invece giusto per concludere la gamma di prodotti ne abbiamo scurriamo con due prodotti che vengono fortemente utilizzati quindi cash collect che sono ancora più simili diciamo ai premium cash collect perché vengono chiamati i premium che abbiamo visto prima abbiamo che tutti i premi sono incondizionati quindi non legati all'andamento delle sottostante eccetto eccezione fatta per l'ultimo premio che è quello a scadenza mentre invece per il cash collect senza il 9 premium davanti almeno per i giustificati emessi nel 100% dei casi direi per il momento i primi premi non sono legati all'andamento del sottostante mentre invece i restanti premi sono legati proprio all'andamento del sottostante e solitamente il livello necessario che deve avere il sottostante per il pagamento del premio coincide con il livello barriera che poi si va a verificare a scadenza l'ultima emissione di cash collect è stata effettuata ad inizio aprile e in questo caso la frequenza la durata del prodotto era di un anno quindi investimento di breve periodo e i premi la frequenza premi era mensile inoltre per questi premi erano per questi certificati erano previsti i premi fissi incondizionati per i primi tre mesi di vita del prodotto quindi a maggio che è già stato corrisposto a giugno e a luglio 2021 poi invece ad agosto 2021 fino alla scadenza aprile 2022 il premio viene corrisposto solo se l'attività finanziaria sottostante è maggiore o uguale a livello barriera giusto per far vedere quello che abbiamo citato precedentemente come documento che è la famosa scheda post emissione che trovate sui nostri prodotti ecco adesso ho aperto il primo della serie di cash collect che abbiamo visto che abbiamo emesso all'inizio aprile su twitter è possibile scaricare una volta selezionato il prodotto la scheda post emissione e in particolare per andare a vedere il funzionamento in modo sintetico e diciamo la storia quindi quello che è già successo nel certificato è possibile andare a pagina 2 della scheda post emissione dove c'è una tabella sintetica che descrive gli importi liquidati quindi quelli che sono già stati corrisposti in passato e da liquidare cioè ovvero i possibili importi che possono essere pagati e corrisposti nei mesi a venire come dicevamo prima questo cash collect aveva una durata di un anno che prevedeva premi emissivi essendo l'emissione è stata effettuata ad aprile 2021 la prima data di pagamento era il 10 maggio 2021 e come vediamo vediamo che come giorno di valutazione del sottostante per i primi tre premi non è rilevante appunto perché i primi tre premi sono incondizionati e quindi vediamo che a maggio ha già pagato l'importo in questo caso di 1,01 euro per certificato a giugno a luglio pagherà ancora l'importo di 1,01 euro per certificato e il valore in questo caso dell'azione sottostante Twitter non è rilevante invece da agosto 2021 fino alla scadenza vedete che la scheda riporta la condizione affinché che deve verificarsi affinché il premio venga corrisposto e quindi qua dice il prodotto paga l'importo di 1,01 euro per ogni certificato se l'attività sottostante vale almeno il livello digital che è pari al 70% del valore di riferimento iniziale per trovare questi valori poi o ce li avete già come abbiamo illustrato prima nella pagina prodotto del sito oppure trovate sempre questa scheda una carta di identità del prodotto con i dati chiave e quindi vedete quanto vale il valore di riferimento iniziale il livello barriera e il livello digital cioè il livello per cui viene pagato il premio che in questo caso come vedete come vi dicevo prima solitamente coincide con il livello barriera e quindi fino ad arrivare alla scadenza dove vediamo le condizioni della scadenza quindi abbiamo una data di valutazione 6 aprile 2022 data pagamento l'8 aprile 2022 il valore del sottostante ovviamente da determinare man mano vedrete che queste colonne man mano che passa il tempo si popoleranno dai valori dell'attività finanziaria sottostante a scadenza il prodotto pagherà 101,01 euro ovvero il prezzo di emissione di 100 euro più un altro premio di 1,01 se l'attività sottostante vale almeno quanto livello barriera altrimenti paga un importo di liquidazione commisurata la performance negativa del sottostante inoltre sotto trovate un ultimo grafico che vi fa vedere proprio quanto rimborserebbe il certificato a scadenza al variare dei valori dell'azione sottostante quindi sia in importi quindi vediamo ad esempio nel caso in cui twitter dovesse perdere rispetto al suo strac iniziale il 60% lo strac iniziale era 71,22 dollari ecco che allora anche il certificato essendo valori twitter sotto livello barriera pagherebbe un importo commisurato la performance del sottostante quindi 40 euro ovvero prezzo di emissione del certificato meno la performance negativa di twitter del 60% in caso in cui invece twitter dovesse perdere tra virgolette solamente il 30% e quindi siamo ancora al di sopra del livello barriera o meglio adesso vediamo quant'era la percentuale ecco che dopo vedremo la percentuale di livello barriera comunque siamo o uguale o superiore a livello barriera ecco che il certificato paga 101,01 esatto il livello barriera è fissato qui quindi stiamo parlando a 49,85 40 quindi esatto il 70% quindi fino a una perdita del meno 30% il certificato rimborsa la scadenza 101,01 altrimenti performance negativa dal sottostante ok Alessandro c'è una domanda non su questo prodotto ma era un po' più generica sull'indice VIX cioè in casi di volatilità non è meglio l'indice VIX allora ricordiamo che l'indice VIX rappresenta la volatilità implicita delle opzioni sul mercato americano è un indice investibile attraverso ad esempio un future o eventualmente attraverso degli ETF che lavorano sulla curva quindi sulla parte a breve e sulla parte a medio ma non è possibile strutturare un certificato o meglio non è possibile non ha grandi diciamo potenzialità un certificato strutturato direttamente sull'indice VIX anche perché mancherebbe una componente legata ai dividendi che tipicamente viene riconosciuti vengono pagati magari da un'azione pertanto non si utilizza l'indice VIX naturalmente può essere utilizzato anche da chi vuole magari puntare su un raffreddamento però sempre attenzione perché anche gli ETF non è che lavorano il ETF è short sul VIX quindi puntare sulla discesa non è che se uno se lo tiene lì sei mesi poi riesce effettivamente a fare quello che fa il VIX che noi vediamo come indice perché appunto ci sono le varie scadenze ma al di là al netto di questo il VIX è un indice di un benchmark di riferimento di tutto ciò che avviene sul mercato dopo di che i singoli titoli hanno la loro volatilità oggi abbiamo il VIX al 18% abbiamo AXA che ha volatilità 22% che è uno dei titoli con più bassa volatilità abbiamo Mercato Libre che ha una volatilità del 48% quindi si può strutturare un prodotto sul singolo titolo avendo caratteristiche più interessanti quindi uno non esclude l'altro e forse il titolo è un po' più facile insomma anche questo perfetto va bene allora si diciamo che se non ci sono altre domande ma guarda c'era una domanda Alessandro su se c'erano certificati su aziende che producono i semiconduttori lo hai fatto a vedere con l'ultima emissione su Intel io nel frattempo avevo dato un'occhiata e quindi oltre a Intel come sottostante che comunque è nel settore dei semiconduttori perché ricordiamo che è una società che ha tutto l'intenzione di creare anche una propria fonderia quindi è sempre più interessata dal tema STM anche lei è comunque utilizzata come sottostante da alcuni vostri certificati poi mi sembra che ci fosse proprio un indice che avevamo visto un paniere di titoli che avevamo visto forse in uno dei precedenti webinar che è proprio legato al tema dei semiconduttori quindi questo è un po' poi altre domande proprio per non lasciare nessuna totalmente in evasa e curiosità di carattere generale se esistono certificati con cedole variabili cioè praticamente che pagano delle cedole in funzione della performance dei sottostanti è un meccanismo utilizzato prevalentemente per certificati a capitale protetto proprio intesa San Paolo ha avuto più di un'emissione però in collocamento e non in direct listing con delle cedole legate alla performance dell'indice sottostante altrimenti non è una cosa molto frequente diciamo che esistono meccanismi anche di watermark per raffissare quantomeno una cedola rispetto al precedente massimo però costano quindi poi all'atto pratico non vengono utilizzati si preferisce prendere una cedola cioè un'opzione in questo caso digitale o con memoria che possa pagare quell'importo fisso quindi non diciamo esiste per dare una risposta però non è né frequente né granché attraente ecco per rispondere e va bene mi sembra che abbiamo risposto risposto Alessandro quindi a questo punto ci possiamo anche fermare perfetto grazie grazie mille per Paolo grazie a tutti i partecipanti anche perché sono sono contento penso anche per Paolo che siano giunte un po' di domande sull'argomento certificati vi do comunque appuntamento anche se finisce questa tre giorni di gran finale dell'appuntamento con YouFinance potete ritrovare sia me che per Paolo sia con l'appuntamento di webinar mensili che facciamo con che in Tesa San Paolo svolge con certificati derivati che avrà luogo il 10 giugno 2021 e poi invece per il prossimo evento che vedrà coinvolti tutti i principali player italiani ci diamo appuntamento sempre con Pier Paolo il 14 giugno con con IT Forum spero di rivedervi o meglio più che altro voi rivedete me io per il momento le 20 sono ancora online quindi non riesco a vedervi ma penso di risentirvi o di rivedere le vostre domande anche anche ai prossimi ai prossimi eventi per approfondire ancora questo tema e fare ulteriori approfondimenti avere ulteriori spunti di analisi grazie grazie mille per Paolo grazie a te Alessandro un saluto a tutti appuntamento a chi vorrà insomma come detto il 10 e 14 giugno ciao Alessandro un ringraziamento alla regia e all'organizzazione e buona giornata grazie mille a tutti